Buongiorno a tutti, questa è una conferenza stampa che inizia un ciclo di presentazione di interventi della sanità regionale tendente a prevenire alcune patologie. Qui in particolare si tratta della presentazione di uno screening relativo a un numero di soggetti fumatori di una certa età in accordo con il Ministero della Salute e l'Istituto Tumori di Milano e l'azienda universitaria di Ospedale Riuniti di Torretti. Allora, siccome è una conferenza stampa e non un seminario, adesso darò la parola a persone che sono qui presenti e poi ai giornalisti la possibilità di fare delle domande. Cominciamo con il dottor Caporossi che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Torretti. Grazie Assessore, questo studio parte da lontano perché sono tanti anni che si pagheggia il fatto di arrivare a una meta storica che è quella di avere il famoso quarto screening, quello del tumore al polmone. E finalmente, grazie alla collaborazione fra alcune strutture di eccellenza italiane, fra cui appunto campeggia l'Istituto Nazionale dei Tumori, che si è battuto per questa cosa fin dall'inizio, con il quale l'Istituto Nazionale dei Tumori da quattro anni noi abbiamo una collaborazione fissa, quindi una convenzione per la quale ci scambiamo un po' tutto. E una delle cose che ci scambiamo è il fatto che se alcuni pazienti vanno da loro dicendo voglio venire qui, loro gli dicono guarda se torni nelle marche trovi le stesse cose che facciamo noi e quindi le trovi in tempo reale con tutti gli aggiornamenti che servono. Ecco, quindi questi sono i rapporti, rapporti positivi che ci portano a essere appunto nel parterra dei pochi centri italiani che portano avanti questa cosa. Com'è stato possibile? Attraverso il fatto di avere intanto un board di pneumologia e pneumologia interventistica, che qui oggi è rappresentato dal professor Stefano Gasparini, che è allo Stato il direttore della scuola di specialità ed è a livello mondiale il number two dei pneumologi a livello mondiale, probabilmente potrà diventare il numero uno a livello mondiale il prossimo anno, poi lo dirà lui, però lo dico perché è un vanto dire queste cose e ci abbiamo la dottoressa Lina Zuccatosta che è direttore della pneumologia interventistica che è il responsabile scientifico del progetto. Quindi diciamo che il progetto ha una responsabilità che è in capo a un clinico, insomma, e a un pool di clinici. Poi abbiamo il professor Andrea Giovagnoni, che è il direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagine della nostra azienda, che è uno dei più grandi d'Italia, diciamo subito, insomma, in tutti i sensi, ed è anche il presidente nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica. Quindi, ecco, intorno a questo tavolo abbiamo, insomma, una rappresentanza, diciamo che non è semplicemente all'interno dei confini della nostra regione. Siamo stati prescelti sia per tutte le abilities espresse all'interno, appunto, delle specifiche discipline, sia per il fatto che abbiamo investito in tecnologie avanzate, perché noi abbiamo due TAC che sono le più potenti del mondo in questo momento. Una è la TAC Force, che sarà TAC Force Siemens, che sarà quella interessata dal progetto, con una TAC a 384 strati, 192 per 2. L'altra è la TAC Revolution, che è quella che sta presso il pronto soccorso e che è ugualmente una TAC a 384 strati. Questo investimento ci ha portato al fatto che, poi lo diranno ovviamente i clinici, ci ha portato al fatto che immediatamente veniamo prescelti per quello che possiamo fare dal punto di vista tecnologico. A queste due attrezzature, nel prossimo mese, quindi poi scheduleremo la data insieme con l'assessore, si aggiungerà una macchina poderosissima, in Italia ce ne sono tre, che è una risonanza magnetica a tre Tesla ibrida con una PET, cioè quindi con una macchina di emissioni di positroni. Questa macchina ci permetterà di avere una definizione altissima di tutto ciò che si può osservare, comprese lesioni tumorali infinitesime, e ci permetterà di fare tante diagnosi che oggi in Italia non si possono fare. Entreremo nel parterra anche qui di tanti studi multicentrici che ci sono in giro, perché le altre TAC, le altre RM PET sono una a Padova, una a Federico II di Napoli e una a San Raffaele di Milano. Ecco, quindi noi entriamo in questo senso. Con l'università qui rappresentata dal professor Mauro Silvestrini, che è il preside, ovviamente stiamo stringendo i rapporti nel senso che tutto, dalla assistenza alla ricerca, e questo studio ne è ovviamente l'esempio, sono assolutamente correlati fra di loro. Grazie. Allora, io ci darei la parola al professor Stefano Gasparini, prego. Va bene, non è un ordine gerarchico, è una conferenza stampa, quindi... Prego, il professor Stefano Gasparini. Sì, è molto facile. No, io ringrazio l'assessore per questa opportunità. diciamo che dobbiamo un attimino inquadrare il problema, il cancro del polmone. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte evitabile in tutti i paesi ad alto reddito, compresa l'Europa e compresa l'Italia. Vi sono dati che, adesso leggo per ricordare meglio, che sono allarmanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni anno il fumo di sigarette causa 6 milioni di decessi, che entro il 2030 è prevedibile possano raggiungere gli 8 milioni. fumo, si parla oggi di cancro del polmone, ma aumenta di 10 volte il rischio di morire di enfisema, raddoppia il rischio di avere un ictus, aumenta da 2 a 4 volte il rischio di essere colpiti da infarto, ma nel fumo sono presenti tante sostanze cancerogene che sono responsabili del 90% dei tumori del polmone. Tumori del polmone non solo, cavorale, laringe, vescica, ma tumori del polmone che sono oggi la principale causa di mortalità per tumore nei paesi industrializzati nel sesso maschile e stanno diventando la prima causa anche nel sesso femminile. Quindi il fumo è responsabile dei decessi, dei morti tra i 35 e i 69 anni di età, oltre un terzo dei decessi in questa fascia di età è da attribuire al fumo di sigaretta. Quindi il problema qual è? Il problema è che il tumore del polmone è un tumore subdolo. Il polmone non ha terminazioni sensoriali, è un organo in cui il tumore può svilupparsi senza che il paziente se ne renda conto. Questo significa che il 75-80% dei casi in cui noi facciamo diagnosi perché compaiono i sintomi clinici, facciamo diagnosi in una fase avanzata, in cui il tumore ha già travalicato i limiti del polmone interessando strutture adiacenti che possono essere le costole, la pleura, piuttosto che gli organi mediastinici. Comunque in una fase in cui non è più possibile attuare la terapia migliore per questa malattia, la terapia che può garantire una guarigione, che è la terapia chirurgica. Da qui nasce la necessità di una diagnosi precoce, quanto più precoce possibile, ma diagnosi precoce significa andare a cercare la malattia prima che compaiano i sintomi clinici. Quando compaiono i sintomi clinici, i disturbi, nell'80% dei casi, siamo già in una fase avanzata di malattia. Questo è il motivo per cui siamo qui e per cui la nostra azienda e la Regione hanno preso a cuore questo problema perché è l'unico modo, ovviamente, assieme alla prevenzione primaria che significa continuare la battaglia contro il fumo di sigarette e questo è un altro obiettivo fondamentale che ci dobbiamo porre. Lo screening non esclude questo obiettivo, è il motivo per cui siamo qui a parlare di questo progetto che a me sta particolarmente a cuore perché vi posso dire che 40 anni fa quando ho iniziato questo lavoro, il mio maestro, il professor Massei, si parlava già allora di screening, già allora questo concetto era presente, fu l'artefice e fu uno dei primi impegni in cui io, giovane pneumologo, mi occupai. Organizzammo uno screening che quella volta era basato su tecnologie ovviamente diverse, era soltanto la radiografia del torace, assieme all'allura dispensario di via Giordano Bruno avevamo arruolato mille soggetti a rischio nella città di Ancona proprio per una diagnosi precoce. Poi dopo la radiografia del torace si era rivelata un metodo non abbastanza sofisticato per dare dei risultati interessanti per cui questa esperienza fu abbandonata e oggi invece con la tecnologia che abbiamo a disposizione nella regione e nella nostra azienda ospedaliera abbiamo avuto così il privilegio di essere stati coinvolti in questa rete italiana screening del polmone, questo è l'acronimo RISP di questo progetto. che penso la dottoressa Zuccatosta adesso mi illustra. Grazie professore, poi ripeto, è una conferenza stampa quindi se poi i giornalisti vorranno approfondire tanto torneremo su questa questione. Quindi non in ordine di importanza insomma diamo la parola. Allora, dottoressa Lina Zuccatosta la presento, è direttore al struttore organizzativo di partimentale e pneumologia di Torrette. Mi permetto semplicemente di ricordare che questi scienziati in due anni hanno salvato molte vite. Prego dottoressa. Grazie assessore, buongiorno. Beh, mi collego all'introduzione fatta dal professor Gasparini. In effetti l'esigenza di avere uno screening per il tumore del polmone è diventata molto importante. Molti pazienti ce lo chiedono, ci sono già screening molto ben consolidate per altre patologie. Se consideriamo che il tumore del polmone è una delle principali cause di morte nell'uomo e anche nella donna era assolutamente importante. Questo studio nasce dall'esperienza di altri studi multicentrici che sono stati fatti negli USA e in Europa e anche uno in Italia dove in effetti si è dimostrato una riduzione dell'incidenza di mortalità che va dal 20 al 39%. E questo è un valore molto importante soprattutto se noi consideriamo che come diceva il professor Gasparini la maggior parte dei tumori più del 70% dei tumori all'esordio clinico quindi quando noi facciamo la diagnosi sono già in una condizione non operabile e anche se poca cosa ma localmente avanzati a 5 anni la sopravvivenza è sì e no il 20% se poi ci sono delle lesioni a distanza siamo a zero. Come cosa prevede questo screening? Prevede ovviamente il reclutamento di soggetti che sono a rischio e quali sono i soggetti a rischio? Sono i soggetti fumatori attivi o che hanno fumato fino a circa 10 anni prima il cut off stabilito sono 30 pacchiers cos'è il pacchiers? Cioè si considera un pacchetto anno quindi 30 pacchiers sono coloro che fumano 20 sigarette al giorno per 30 anni. La fascia di età in cui si manifesta più frequentemente il tumore del polmone è dopo i 55 anni e infatti la fascia di età che viene considerata per l'arruolamento è dai 55 ai 79 anni. Ovviamente il programma di screening che quindi prevede la possibilità di fare una diagnosi precoce ovvero di individuare la lesione che poi potrà essere asportata quindi con una sopravvivenza a lungo termine più che buona è fortemente agganciata anche ad un programma di campagna e di disassuefazione dal fumo perché è ovvio che chi sarà arruolato non dovrà fumare più quindi sarà molto importante un processo che è veramente a largo raggio con una grandissima integrazione sia per quello che sarà l'arruolamento gli ambulatori specialistici i medici di medicina generale i centri antifumo sia per quello poi che sarà noi ci aspettiamo che circa l'85% delle tappe che verranno fatte saranno delle tappe negative ma il positivo poi richiederà una multidisciplinarietà che partirà dalla diagnosi a ulteriori accertamenti radiologici al trattamento terapeutico e la nostra regione il nostro centro è stato scelto proprio perché dispone di questa multidisciplinarietà di più figure specialistiche in campo clinico interventistico chirurgico oncologico radiologico grazie grazie dottoressa naturalmente questo screening tiene conto appunto della diagnostica per immagini chi meglio è il professor Andrea Giovagnoni che è il presidente anche nazionale di questa specialità chi meglio di lui ci può spiegare insomma allora grazie grazie assessore io ricordo un attimo faccio riavvolgo il nastro un attimo di qualche mese perché quando venimmo contattati dall'istituto tumore che ci aveva prospettato di entrare in questo screening eravamo in piena pandemia eravamo come dire oberati da altri problemi come accennava io ne parlai con Stefano Gasparini e poi con il direttore generale dicendo ma secondo noi questo è una cosa che non possiamo perché la pandemia finirà ma il tumore del polmone no quindi tutti noi eravamo molto ben confidenti e molto ben convinti che questa era una cosa da fare e ne parliamo con l'assessore si ricorda l'assessore venimo su a dire e l'assessore non è che ci mise tanto a dire andate avanti perché credo sia come dire una cosa che fa lustro alla regione ma soprattutto fa bene ai pazienti perché il tumore del polmone come dicevano prima Stefano Gasparini e Dina Luca Tosta è un problema che ci porteremo ai miei avanti per i prossimi anni quindi è uno dei tanti problemi in cui tutti i giorni noi siamo impegnati questa è la parte diciamo che prodromica alla situazione attuale noi siamo la radiologia quindi in realtà questo screening cade sulla testa e sull'organizzazione della radiologia non sarà facile non è stato facile ci siamo organizzati ci sono tre aspetti che dovremmo in qualche maniera considerare la prima è quello tecnologico perché lo screening prevede l'utilizzo di attrezzature che permettono un'attacca a bassa dose cosa significa bassa dose significa che la quantità di radiazioni che fino ad oggi avevano di fatto impedito l'utilizzo dell'attacca per lo screening è un problema proprio di tecnologia per non rischiare che l'attacca facesse peggio cioè della malattia cioè si inducessero tumori indotti così come molti report soprattutto americani avevano negli ultimi anni messo in evidenza è evidente che queste nuove tecnologie uso un termine non corretto ma così si capisce eroga al paziente una quantità di radiazioni inferiore a quella di un Rx torace questo chiaramente ha spostato completamente l'approccio allora se noi abbiamo una tecnologia così precisa come un'attacca con un tempo di acquisizione che è esattamente uguale a quella di un Rx torace ma con delle potenzialità diagnostiche sono 300 volte superiori è evidente che l'approccio diagnostico diventa assolutamente non fattibile ma come dire perseguibile con forza e questo è stato diciamo irrazionale ci sono poi due altre secondo me aspetti da tenere perché come io spesso dico l'attacca non è una slot machine non è che uno mette dentro il paziente gli viene fuori il cartellino con la diagnosi il fatto che noi siamo entrati in questo gruppo network italiano dell'It diciamo è perché da anni esiste un gruppo di persone di clinici di radiologi di oncologi di medici in generale che si occupano dell'argomento e abbiamo raggiunto tutti da insomma un livello di competenze che ci hanno permesso di essere inclusi fra i centri d'eccellenza italiane e questo bisogna riconoscerlo è un grande riconoscimento anche per tutto il lavoro il terzo come dicevo è un problema apprettamente organizzativo noi come dicevo siamo 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 stati molto e siamo impegnati ancora a combattere da un punto di vista proprio quotidiano la pandemia il numero di pazienti per fortuna che hanno polmoniti da covid è fortemente diminuito ma vi posso assicurare che reinventarci un'organizzazione della radiologia con i pazienti covid non è stato e non è facile quindi questi 1500 pazienti perché di questo più o meno stiamo parlando che devono eseguire un attacco il primo nell'ingresso e quindi all'argomento e poi un'altra sei mesi poi un'altra cioè un anno e poi un'altra due anni a secondo del braccio significa aggiungere alle circa 60.000 prestazioni tacche che noi facciamo che è un numero che se uno ci pensa fa un pochino tremare i polsi perché insomma 60.000 tacche in un anno è un numero significativo perché come dicevo ci sono dietro uomini che interpretano organizzano e in qualche maniera archiviano questo l'intelligenza artificiale ancora una volta ci verrà d'aiuto ricordo che proprio ieri il Consiglio Superiore di Sanità ha emendato un documento sull'utilizzo in medicina dell'intelligenza artificiale e credo che questo sia uno dei campi dove forse questo nuovo tool che noi utilizziamo possa essere molto ben utilizzato come aiuto alla diagnosi e come aiuto al lavoro quotidiano per ridurre i possibili errori che comunque un programma di screening quindi abbiamo messo in piedi un complesso sistema di riduzione degli errori umano quindi la doppia lettura e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quindi io sono molto ottimista ed entusiasta di questa nuova avventura perché come diceva Stefano è partita tanti tanti anni fa e adesso cominciamo a forse entrare veramente in partita e quindi poter dare una risposta molto significativa ai pazienti marchigiani ma non solo a questo punto io direi adesso di fare intervenire il professor Silvestrini rappresentanza dell'università Politecnica delle Marche in particolare la facoltà di medicina grazie assessore si sente anche senza microfono dunque io non aggiungo molto quanto è già stato detto se non la possibilità di esprimere i miei ringraziamenti e il mio apprezzamento per i miei colleghi che hanno creato le basi grazie che hanno creato le basi per entrare in questo progetto così importante ovviamente con il supporto della direzione dell'ospedale e con il supporto della regione che insomma è stato indispensabile ed sarà fondamentale per il buon esito del progetto dal mio punto di vista è in rappresentanza della facoltà di medicina dell'università che insomma ovviamente come sapete è il luogo che ha come mission fondamentale quello della promozione della conoscenza devo dire che questo progetto rappresenta un esempio virtuosissimo della nostra capacità della capacità che ha avuto la medicina di adattarsi alle nuove esigenze sociali voi sapete che la medicina per anni tradizionalmente è stata vista come l'approccio come un qualcosa che si esprimeva attraverso un approccio di diagnosi e di terapia della malattia i cambiamenti sociali l'invecchiamento della popolazione ci ha fatto capire questo fortunatamente l'abbiamo ricevuto e ripeto questo progetto è l'esempio della correttezza dei nuovi approcci la medicina deve essere promozione della salute quindi non dobbiamo occuparci soltanto dei malati ma dobbiamo cominciare ad occuparci di soggetti sani soggetti sani che possono diventare potenzialmente dei malati questo è un aspetto fondamentale che come facoltà di medicina cerchiamo di promuovere anche attraverso lo stimolo a modificare i programmi di insegnamento i nostri docenti oggi dedicano una parte consistente non più all'approccio tradizionale che è quello che ha caratterizzato la mia generazione di studenti quello di capire come si fa diagnosi casomai precocemente ma come si cura un paziente oggi cominciamo invece dalle basi come si previene una malattia il professor Gasparini ha citato il fumo di sigaretta come uno dei killer della società moderna ancora non siamo riusciti a convincere le persone dell'importanza di questo aspetto il killer che promuove morti per tumori promuove morti per malattie circolatorie incluso l'ittos incluso l'infarto del miocardio quindi io di nuovo sono estremamente orgoglioso di essere parte integrante di questo gruppo e quindi daremo il nostro contributo nel senso che vi dicevo la promozione la promozione dell'informazione grazie grazie professore allora siamo velocissimi mi pare allora la dottoressa Storti come sapete è il direttore generale di ASUR e con lei stiamo condividendo un percorso per la promozione dei corretti stili di vita anche nelle scuole e così via faremo anche una campagna di informazione questo è uno dei più diciamo così significativi no l'abbandono del fumo insomma prego dottoressa Storti se vuoi intervenire molto velocemente perché molte cose sono già state dette io ritengo che questo studio sia particolarmente importante perché potrebbe dare la validazione a quello che è lo screening del tumore del polmone assieme allo screening degli altri tumori che fortunatamente si è abbassata come incidenza ma soprattutto come mortalità proprio per effetto dello screening noi come azienda territoriale supporteremo sulla base di quello che è il protocollo e quello che ci dirà l'azienda ospedale riuniti attraverso l'opera dei medici di medicina generale che debbono essere coinvolti è molto importante il loro coinvolgimento perché poi la decisione di smettere di fumare passa anche con un supporto del cosiddetto medico di famiglia che è quello per il quale il cittadino ha veramente fiducia e attraverso i centri appunto antifumo in questo momento noi abbiamo operativo solamente il centro di Iesi perché anche qui la pandemia ci ha necessariamente portato a dover ridurre le aperture di questi centri ma potranno essere riattivati sia in area vasta 4 che in area vasta 5 e magari potremo in sinergia lavorare a secondo della provenienza dei pazienti che vengono inseriti all'interno di questo studio un'altra cosa importante è quella che dobbiamo oltre che invitare a smettere a chi fuma come diceva correttamente l'assessore ad avviare delle campagne informative per evitare l'inizio del fumo perché si fa subito ad arrivare a 20 sigarette 30 anni quando basta la prima provata così prestizio poi diventa un problema quindi un bellissimo progetto mi complimento con l'assessore per averlo sostenuto con il direttore di Torrette per aver avuto l'attenzione a partecipare a questo studio e penso che sarà un valore aggiunto per la salute della nostra regione allora il dottor Gozzini è il nuovo direttore del dipartimento naturalmente abbiamo lavorato e stiamo lavorando molto con lui saluto anche il dottor Lagalla con cui condividiamo un percorso importante sui vari screening di cui vi ho parlato questo è il primo poi proseguiremo diciamo così nella nostra missione quindi il dottor Gozzini come voi sapete cardina quella sua funzione di direttore del dipartimento salute da alcuni mesi quindi vi darei la parola sì grazie un tanto grazie a tutti diciamo dell'organizzazione di questo evento che rimarca sostanzialmente l'ambito di quanto si possa prevenire le patologie in particolare quelle del tumore al polmone ma tanto ringrazio dottor l'assessore il dottor Caporossi insomma tutti gli universitari presenti eccetera per la massima collaborazione ma quello che volevo sottolineare è questo ci metto un minuto noi indubbiamente la prevenzione è fondamentale in Italia si spende ancora troppo poco per questo campo e lo sappiamo doveva essere riservato un 5% del fondo nazionale invece sappiamo vero Nadia che è molto meno qualcosa meno dopodiché non c'è solo prevenzione ma c'è anche predizione cioè vuol dire che uno sta bene ma apparentemente tutti stiamo bene in realtà non è così ci sono dei campanelli che non vediamo e non conosciamo anche che sono asintomatici che dovrebbero darci diciamo dovrebbero essere studiati per fare ciò che si chiama predizione quindi attraverso anche degli algoritmi quindi dire quante sono le percentuali di questo perché perché sostanzialmente se non lavoriamo non cominciamo a lavorare come si sta facendo in questa direzione noi continuiamo a curare dal sintomo in avanti quindi noi ci preoccupiamo di andare a farci vedere solo quando abbiamo il sintomo voi tenete presente che il 70% della spesa italiana va per curare il 30% della popolazione pensate il 70% cura il 30% se noi questo 30% lo curiamo meglio e lo preveniamo lo riduciamo è chiaro che avremo molti più soldi liberi per fare ancora più prevenzione dobbiamo invertire questo paradigma e purtroppo rincorriamo è come il cane che si morde la coda continuiamo a ricorrerci in realtà non fregna ci vorrà 10 anni però se freniamo le cose in questa direzione è chiaro che ci costa subito è come che uno fa il mutuo scalare man mano arriva a fine il mutuo ha speso poco e quindi l'ultima rata è bassa però intanto c'ha la casa qui è uguale quindi credo che la filosofia deve essere proprio quella in cui si sta facendo adesso quindi macchine che non danneggiano quindi lo dose che fanno anche prevenzione in questo caso sperimentazione non solo prevenzione ma che valono un po' su tutti i campi quindi questo è l'obiettivo che bisogna fare bisogna darci grazie grazie d'orgozzini voglio sottolineare solamente tre questioni molto semplici un minuto di tempo capito perfettamente che partecipare a questo progetto significa andare a cercare chi può vedere insorgere il tumore al polmone tra i fumatori un percorso che chiaramente mette diciamo così il territorio l'ASUR le aziende territoriali la medicina territoriale pediatri e l'altissima specializzazione scientifica che Torretti chiaramente raggiunge la seconda questione è che noi uscendo in questo momento possiamo dire da una situazione critica della pandemia comunque con cui dobbiamo convivere ci proponiamo evidentemente di rafforzare il territorio quindi stiamo lavorando su tre o quattro filoni che sono il fascicolo sanitario elettronico la riorganizzazione dei pronti soccorsi e non per ultimo tutta la diciamo così lo studio delle liste d'attesa lo diceva il professor Giovagnoni il tema chiaramente è centrale perché dopo due anni noi rileviamo che tantissime persone c'è una fila lunghissima per TAC risonanze magnetiche e chiaramente queste prestazioni per diagnostica per immagini sono necessarie quando lo decide il medico invece c'è una spinta di tantissime persone che si autofano la diagnosi e poi quindi in questo percorso per recuperare l'istri attesa e prevenire le patologie dobbiamo molto lavorare con i medici di medicina generale che sono chiaramente l'incipit da cui parte l'universalità della salute nel nostro paese quindi anche su questo punto voglio ringraziare voglio ringraziare tutti perché non solo con i covid non dimentichiamoci le polmoniti intersiziali bilaterali ho imparato pure io questa cosa perché quando mi hanno fatto mi hanno mostrato le prime radiografie con delle lesioni al polmone cioè anche un ignorante capiva di che cosa si trattava e noi lo voglio ricordare e qui abbiamo salvato tantissime persone il sistema sanitario regionale è stato uno dei migliori a livello nazionale nel rapporto tra persone ricoverate e persone che insomma sono decedute la seconda il secondo la seconda capacità del sistema sanitario della regione Marche è stata quella della vaccinazione quando il 10 gennaio il commissario dell'istituto superiore di sanità ha detto che il vaccino copriva solamente 4 mesi e quindi abbiamo dovuto vaccinare mezzo milione di persone in 20 giorni perché serviva il certificato per tornare a lavorare e voi andate a vedere quale regione ha avuto questa performance in 20 giorni abbiamo vaccinato mezzo milione di marchigiani il che significa che non solo c'è stata una capacità reattiva per l'emergenza di un sistema che era stato studiato ed è potenziato per 10 anni non dimentichiamoci che dalla spending review che viene introdotta nel nostro paese con il governo Monti nel 2012 naturalmente per motivi relativi al disavanzo pubblico quindi non dimentichiamocelo mai lo voglio ricordare qui anche in prospettiva di quello che succederà nel nostro paese in futuro la spesa finanziaria della sanità è di 124 miliardi poi se andiamo a osservare che la spesa solo per interessi va dai 70 agli 80 miliardi ci rendiamo conto di che cosa accade all'Italia per i 2700 miliardi di debito pubblico questo lo voglio dire non per mettere male avanti perché non appartiene alla regione appartiene al governo però se l'Italia ha registrato una diminuzione del PIL probabilmente dovranno essere aumentate le spese per la difesa e la cooperazione internazionale in ambito occidentale e così via è chiaro che il tema della riorganizzazione della sanità sarà un tema complicato e per questo io vi chiedo di stringerci a corte come come disse il generale Figliuolo perché chiaramente altrimenti noi non riusciremo a garantire questo sistema universale gratuito per tutti e così via quindi come comprendete perfettamente quando con il professor Giovagnoni parliamo di questo screening eravamo nel pieno della pandemia e loro hanno avuto il coraggio se mi permettete il coraggio l'utopia di progettare questa cosa quando eravamo nel pieno avrebbero potuto dire guardi no assessore guardate che non siamo proprio pronti invece no hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e questo dimostra la vitalità di tanti professionisti che molto spesso insomma sono siamo un po' attaccati perché c'è la fila pronto soccorso o non si trovano i medici medicina generale assolutamente rivendicazioni legittime perché i cittadini hanno il diritto di essere garantiti in queste prestazioni allora io ho finito se i giornalisti vogliono fare delle domande ai presenti siamo corsi del resto del carlino prego la dottoressa a livello scientifico è tutto chiaro volevo se era possibile dei dettagli proprio informativi sul progetto quindi quante persone quando partirà quindi le cose che diciamo a livello scientifico è tutto chiarissimo però proprio a livello di informazioni di dettaglio il background è chiaro in dettaglio dobbiamo dire una cosa anche che è importante che il nostro centro rientra in questo scusa c'era un altro foglio il nostro centro rientra nel nel progetto RISP ma rientra anche e questo è un ulteriore motivo di orgoglio in un altro protocollo che andrà di pari passo questa volta europeo con unico centro in Italia assieme all'Istituto di Tumori e al Negrar di Verona il nostro ospedale grazie proprio alle competenze e alle tecnologie che sono state sottolineate dal direttore dal professor Giovagnoni è stato scelto anche per entrare i soggetti che saranno screenati i risultati di questi screening di questi esami saranno anche inseriti in un protocollo europeo di cui Ancona mentre per i protocolli italiani il RISP sono 18 gli ospedali che sono stati inclusi e che quindi porteranno avanti uno per regione questo programma noi partecipiamo anche come azienda ospedaliere di Ancona assieme all'Istituto Tumori Milano e al Negrar di Verona a un progetto europeo coordinato ad Amestr su fondi della comunità europea questo per dire insomma anche l'importanza e la rilevanza a livello scientifico e di lavoro di questo noi dovremmo arruolare sui 1500 pazienti mi sembra che i tempi sono tre anni tre anni e il protocollo prevede la ripetizione di una tacca annuale o biennale dipende dai fattori di rischio che poi sarà valutata e i criteri di inclusione che abbiamo già detti devono essere fumatori di almeno quest'unità di misura che è difficile un po' da percepire che però viene usata in medicina che è il pacchiaz i pacchetti anno significa il numero di pacchetti per il numero di anni fumati allora se io fumo 20 sigarette al giorno per 10 anni io sarò un fumatore di 20 pacchiaz di 10 pacchiaz scusate se io fumo 10 sigarette al giorno per 20 anni sarà ugualmente 10 pacchiaz perché il pacchiaz il pacco è 20 sigarette per gli anni fumati e quindi è una unità di misura standardizzata a livello scientifico che ci dà un'idea della quantità globale di fumo distribuita quindi qui si parla di soggetti che hanno almeno una quantità globale di fumo di 30 pacchiaz il che significa o un pacchetto per 30 anni o mezzo pacchetto per 60 anni o due pacchetti per 15 anni questi soggetti saranno reclutati e qui avremo bisogno come diceva il dottore Sestorti dei medici di medicina generale che devono essere coinvolti in questo progetto in maniera e avremo bisogno di piena in maniera piena e qui anche chiediamo appunto anche all'assessore di promuoversi di promuovere questa iniziativa i centri antifumo gli ambulatori specialistici e poi tutti i pazienti che vediamo noi anche in ospedale che avranno queste caratteristiche saranno invitati nel loro interesse a entrare in questo programma che poi ecco prevede la ripetizione annuale e posso dire in maniera molto più pratica ci sarà un portale perché come potrà essere l'accesso sicuramente le figure reclutanti gli ambulatori specialistici i medici di medicina generale i centri antifumo ma praticamente chiunque potrà inserire i dati in questo portale il problema e in questo ci stiamo organizzando non è sul quello che cioè sulla TAC che è negativa e quindi a seconda del braccio poi il paziente entrerà nel follow up il problema sarà il positivo cioè quando io ricevo un TAC con una alterazione che può essere sospetta per la neoplasia e siamo in pieno screening o qualcos'altro per esempio un enfisema o un'altra malattia fibrosante non siamo nel campo del tumore ma in malattie che comunque sono invalidanti a quel punto e rientra in gioco il clinico cioè lo pneumologo che in base a quello che sarà destinerà nell'ambulatorio per le malattie ostruttive croniche piuttosto che alla pneumologia interventistica per la diagnosi o alla chirurgia quindi non c'è solo la fase del reclutamento e ci sarà questa piattaforma ma poi all'interno della struttura sarà creato il percorso per chi ha l'alterazione dalle statistiche dicono sì un 85% di TAC negative e un 15% di alterazione e lì l'alterazione chiaramente poi sarà valutata nel senso che potrebbe essere torno a ripetere anche qualche un aspetto caratteristico radiologico proponente per la benignità per cui può rientrare in un follow up magari diverso o come pure invece qualche cosa che merita un comportamento più aggressivo quindi quel 15% avrà un rientro nell'ambulatorio clinico pneumologico e poi si avvarà di tutte le figure scusate la veranità i pazienti che vengono sfrirati non fanno niente sicuramente le cose ma le cose ma le cose sono giugnioni una domanda vi do alcuni come dire dettagli tecnici allora il primo problema è quello dell'arruolamento non sarà facile non sarà facile convincere i medici medicina generale e questo credo ci sia un accordo anche a livello nazionale con la società di medicina di base il secondo problema sarà reclutare i pazienti ma portarli in ospedale secondo delle liste e noi abbiamo previsto dicevo prima che questa attività si va a innestare in un'attività della radiologia che insomma è abbastanza già impegnativa noi avremmo previsto di utilizzare come prima battuta il sabato pomeriggio e eventualmente spostarlo a sabato mattina perché al di là insomma non voglio dire degli enunciati teorici poi bisogna questi pazienti farli bisognerà farli reclutarli sistemare tutta un'organizzazione di segreteria di accettazione di supporto tecnico infermieristico anche se non ha bisogno del mezzo di contrasto e di tutto quello che succede quando un paziente comunque entra in ospedale per questo quindi noi ci siamo già organizzati per questo prevediamo appunto di allargare la nostra attività istituzionale come è già successo e succede il sabato pomeriggio e sicuramente probabilmente il sabato mattina ridistribuendo il lavoro del sabato mattina vi do altri due aspetti molto interessanti secondo me abbiamo fatto a livello nazionale io grazie come diceva prima l'assessore a questo protempore impegno di essere il presidente nazionale mi permette anche di muovere abbastanza più facilmente a livello nazionale abbiamo fatto un network dei radiologi per fare due cose importanti uno è un sistema di refertazione omogeneo strutturato cosa vuol dire? vuol dire che il paziente che fa l'esame ad Ancona o al centro di Milano verosimilmente riceverà lo stesso livello di risposta e questo permetterà un'omogeneizzazione una valutazione dei dati molto importante cioè non ci sarà più il referto libero descrittivo tanto per intenderci ma verrà incasellato in un referto come si dice strutturato cioè a cui il radiologo esperto dovrà rispondere per come dire tentare no tentare per essere tutti uguali nelle risposte e questo è uno dei elementi più importanti per una valutazione di screening cioè parlare tutti la stessa lingua altrimenti si rischia c'è poi un secondo livello tutte queste immagini verranno centralizzate in un unico database nazionale e questo permetterà ancora di più di avere non più i singoli centri che vedranno mille pazienti ma di avere 10.000 pazienti e i risultati di 10.000 pazienti perché il programma di screening è vero è tirar via 150 pazienti sui mille che noi studiamo ma è anche a vedere quanto il programma di screening che è uno studio pilota possa andare avanti e essere entrato nei LEA perché nell'idea credo del legislatore sia quello di introdurlo nei LEA e quindi di portarlo avanti nei prossimi 15 anni 20 non so quanto l'ultimo aspetto noi si prevede un'altra cosa che non è stato detto di partire in maniera veramente troppo ambiziosa secondo me però giugno giugno 21 ci sono ancora da sistemare alcuni problemi con i comitati etici perché chiaramente tutto questo è normato e sapete meglio di me quando il problema del comitato etico sia importante c'è stata la riforma dei comitati etici per cui niente viene fatto che non rientri in uno stretto controllo a garanzia del paziente ci sono ancora alcuni centri che non hanno ricevuto l'ok del comitato etico noi l'abbiamo ricevuto due settimane fa quindi stiamo come dire ecco la dottoressa ha firmato però insomma è passato quindi noi siamo a posto con i nostri compiti siamo pronti a partire e quindi insomma speriamo bene mi chiedevano prima un attimino alcuni colleghi dell'incidenza nelle marche di questa problematica ecco questo è importante dunque diciamo che in Italia le statistiche più recenti prevedono un'incidenza di cancro del polmone che varia tra i 100 e i 110 abitanti per 100.000 100-110 casi per 100.000 nel sesso maschile all'anno sul sesso femminile siamo ancora un pochettino indietro rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti dove l'incidenza nel sesso femminile sta andando molto forte siamo sui 20-30 casi per 100.000 abitanti che significa una globalità di circa 150 casi tra maschi e femmina per 100.000 abitanti questi sono dati italiani le marche sono lievemente al di sotto di questa media ma non molto perché gli ultimi dati riportati proprio dalla regione dall'analisi della regione sono di 90 casi nel sesso maschile per 100.000 abitanti e di 27 casi nel sesso femminile che significa che in un anno nelle marche siamo intorno ai 3.000 casi di cancro del polmone che è un numero a mio avviso molto molto rilevante grazie professore di un percorso per smettere di fumare contestuale allo screening questo discorso riguarda l'ASUR allora che cosa facciamo innanzitutto capito perfettamente che si parte dall'ospedale che è per tecnologia per professionalità per esperienza ricerca perché c'è l'università diciamo così è il più titolato sullo studio di questi fenomeni senza levare nulla naturalmente ai 12 ospedali di primo livello dell'ASUR della nostra regione quindi qui comincia un percorso se questo percorso sarà fruttuoso come ho già detto noi vogliamo investire molto di più sulla prevenzione perché curare 3.000 casi di tumore al polmone ogni anno ha dei costi molto rilevanti il che significa dare maggiori risorse evidentemente ai reparti per la diagnostica per immagini perché se vogliamo fare gli screening preventivi tenete conto che nell'elenco liste d'attesa TAC risonanze magnetiche sono le prestazioni insieme a l'endoscopia diciamo così le prestazioni più richieste che invece vedono un minor riconoscimento dei tempi d'attesa ma questo è un altro argomento è chiaro che in tutto questo si attaglia perfettamente l'idea dei 27 milioni che sono stati individuati come investimenti PNRR per la modernamento tecnologico la seconda questione è che come ho già detto più volte ai dirigenti che sono qui presenti va diciamo così modificato l'approccio con cui le tecnologie sono impiegate nei nostri ospedali nel senso che non vale più il discorso si sostituisce perché c'è l'obsolescenza non basta più quel solo criterio si sostituisce perché il macchinario è vecchio ma il macchinario deve essere fatto funzionare perché non ha non funziona che si sostituisce che ne so una una macchina elettromedicale costa i milioni in un certo ospedale e poi funziona due ore la mattina per essere chiari quindi accanto alla macchina devono essere pensate le risorse in termini di medici anestesisti se si deve fare il contrasto e così via il che significa che in questa riprogettazione del sistema tutte queste modifiche le vedrete nel prossimo piano sociosanitario che ormai noi abbiamo intenzione di portare entro la fine di marzo e giugno in ogni caso questo esperimento che viene coordinato come abbiamo detto il Ministro della Sanità l'Ospedale Uniti il Centro Tumori di Milano poi per noi costituirà la base per un'eventuale estensione anche al territorio perché questo noi partiamo da qui e vediamo a livello organizzativo questo diventa per noi anche una best practice a livello regionale e in tutto ciò ecco io non ho altro da aggiungere se ci sono altre domande per i professori altrimenti chi è presente niente il dottor Lagalla vuole aggiungere qualcosa? no grazie nulla se è tutto chiaro anche per i giornalisti collegati ringrazio tutti e poi ci rivedremo per i dati i dati a consultivo per informare sull'evoluzione esatto grazie 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 grazie